Gentili telespettatori, buona giornata. Michele Serra contro Salvini. È un prepotente scamiciato che odia ed eride. Allora, Michele Serra è stato spesso ospite, a che tempo che fa, su Rai 3, nella trasmissione di Fabio Fazio o Fazio Fabio. È il giornalista di La Repubblica, intervistato da Annalisa Cuzzocrea sulla stampa. Quindi stampa Repubblica sono i giornali più schierati a sinistra, per intenderci quelle dei titoli a volte inventati, dei virgolettati inventati, delle interviste inventate, insomma, quei giornali lì. Non che dall'altra parte a destra ci siano dei giornali così che tu li leggi e ti nobiliti, è una gara a chi è peggio, uno peggio dell'altro, con delle caratteristiche sfumature diverse, ma tutti questi giornali che abbiamo in Italia diciamo che fanno a gara a prendere l'Oscar del peggiore giornale. Commentano le dimissioni del conduttore Fabio Fazio, che poi ha firmato un contratto con Discovery a 300 mila euro in più ogni anno, quindi un contratto di quattro anni, cinque anni, con un milione e mezzo in più di euro in cinque anni. Dice Fazio ha sempre lavorato in totale autonomia e non ha debiti politici da saldare. Deve tutto quello che ha solo al proprio lavoro, dunque a se stesso. Beh, insomma, è come dire non è un raccomandato, si è fatto da solo. Vabbè, va bene, e quindi? Dice, ho lavorato con lui per molti anni fino al 2015, non ha amici politici e non frequenta la politica. Nel mondo partitico romano, che si contende da sempre la RAI, sono qualità controproducenti. No, allora cercano di far passare Fazio come un indipendente, un trasversale, uno che parla solo di quello che pensa lui senza nessun condizionamento politico. In realtà Fabio Fazio faceva la spalla del Partito Democratico. Fabio Fazio, schierato a sinistra, con idee di sinistra, ha avuto un programma per anni con orientamento di sinistra. Va bene, Fabio Fazio di sinistra ha fatto un programma di sinistra per anni, adesso è arrivato un governo di destra e, come è sempre successo, si impadronisce della RAI e cambia i programmi. A chi scade il contratto come a Fazio gli aveva fatto capire che non c'era trippa per gatti ed è andato da un'altra parte. Io non ci vedo poi tutto sto scandalo e non ci vedo neanche la santificazione di Fabio Fazio. Ha potuto Fabio Fazio per anni fare un programma di politica schierato a sinistra. Il suo tempo l'ha fatto, oggi è il turno di qualcun altro. Magari non avrà lo stesso audience che a lui e fa niente. Tanto la RAI non è un'azienda privata. Bene, comunque. Fazio è inservibile per il centrodestra, dice il giornalista. Sì, ha ragione, è inservibile per il centrodestra. Bene che vada può essere tollerato, ma per lavorare bene non ci si può sentire tollerati. Ci si deve sentire sostenuti dal proprio editore. Quindi ha fatto benissimo ad andarsene. Concordo. Non era più gradito e se n'è andato. Ha fatto benissimo. E rispetto a Matteo Salvini, che dopo l'addio di Fazio aveva scritto su Twitter belli ciao, Serra attacca, dice, nel caso di Salvini suppongo che il problema sia di tipo antropologico più che politico. È il prepotente scamiciato che odie e deride il primo della classe, un poco azzimato, come accade in ogni classe di scuola media. Credo che le buone maniere di Fabio facciano parte, per quelli come Salvini, dello stigma del radical chic. Ci sarebbe solo da sorridere, di Salvini, se negli anni, con il supporto dei giornali scritti con il bastone. I social di destra non avessero animato un vero e proprio linciaggio pieno di insulti e minacce, fondato sulla fola di Fazio che invita solo quelli di sinistra. Allora, di Salvini parliamo fra un momento. Fazio che invita solo quelli di sinistra non è una falsità, è una realtà. Fazio invitava quelli di sinistra per, tramite l'invitato, attaccare il governo. Cioè, Fazio non attaccava direttamente il governo, ma tramite gli inviti. Tu inviti una persona che sai come la pensa su alcune cose, gli fai delle domande ed è facile fargli dire quello che tu hai in mente. è un gioco da ragazzi. Io, non so, invito Saviano e gli faccio delle domande su Salvini e il gioco è fatto e Saviano parte come una molla contro Salvini. Quindi, evidentemente, il giornalista come Fazio, come Formigli, come Floris, sa perfettamente quali sono le tecniche per attaccare il governo o chi gli sta antipatico in maniera indiretta, senza esporsi in prima persona, facendo delle semplici domande alla persona giusta. Quindi il fatto che Fazio invita solo quelli di sinistra è vero, caro giornalista della Repubblica, è vero. Dice su quella poltrona bianca sono passati quasi tutti i leader della destra, da Berlusconi a Storace, a Fini, allo stesso Salvini. Sì, ma tu inviti una volta Salvini e dieci volte Saviano, inviti una volta Berlusconi e poi inviti altri 57 politici di sinistra, hai fatto finta di essere plurale, ma in realtà fa parte di un gioco politico ben studiato. Dice anche la Beloni, era stata invitata, ma non ha accettato l'invito. Con la destra al potere c'è un problema in più, è un problema enorme, ha un gigantesco complesso di inferiorità che la rende più insicura e dunque più aggressiva. Si fida solo dei suoi, dunque Alarai metterà i suoi e farà credere che gli altri, tutti gli altri, lavorano lì solo perché di sinistra, come Amadeus, noto biografo di Rosa Luxemburg. Allora, la destra non ha complessi di inferiorità. I complessi di inferiorità c'erano negli anni 70, 80 e 90. Poi con lo sdoganamento di Berlusconi che li ha portati nel centro-destra, ha creato il centro-destra. Oggi la destra non ha nessun complesso di inferiorità, anzi è la sinistra che continua ad avere un complesso di superiorità credendo che la destra abbia un complesso di inferiorità. Quindi cercare sempre la distanza tra quelli intelligenti e quelli, insomma, che non sanno neanche dove si mette l'H davanti la A, l'anno, la E, eccetera, l'E con l'accento. Ecco, pertanto la destra si fida solo dei suoi e di chi si deve fidare? Si deve fidare di Fedez, di Santoro, di tutta la combricola di sinistra che ha spadroneggiato sulle televisioni per anni? Oggi, cari sinistri, dovete mettervi il cuore in pace che ci sarà un'altra narrazione. Quello che potete fare è non accendere la televisione o guardare video music, un po' di musica. Arrivederci a tutti e grazie.